Evacuazione obbligatoria. Ma verso dove? Dove, secondo te? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo lasciarsi tutto alle spalle. Non è la parte ardua. Sì, quella è opera di Bill. C'è qualcun altro che faccia? Per quanto ne so, solo lui. Gesù! Porca miseria! Ma che... che cosa diavolo era? Era... una delle trappole di Bill. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini e andrà tutto bene. Cavolo, Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. なんか troppo come parlano perché voglia. Allora! Ciao ! Ah!